Abbiamo presentato con tanta gioia ed energia verso la Sala della Concordia del Comune di Fano grazie alla collaborazione del Sindaco Massimo Seri e dell'Assessore Barbara Brunori il nuovo progetto Avis a Scuola. Il nostro referente Giuseppe Franchini, l'ex preside ha presentato il bando per realizzare una bellissima rotatoria. La rotatoria verrà realizzata grazie a bozzetti e progetti fatti dagli studenti delle scuole superiori. Di nuovo Avis Fano e le scuole del nostro territorio unite per la sensibilizzazione della cittadinanza attiva e della promozione del dono. Presto, oltre alle panchine, oltre al bosco dedicato ai donatori e oltre al bellissimo logo realizzato per il settantesimo gli studenti ci stupiranno con un bellissimo progetto per abbellire e arredare la nostra città con un simbolo del dono. Il bando verrà realizzato il prossimo anno, anno scolastico quindi entro il 2021 gli studenti dei quattro istituti fanesi, il Don Orione, il Polo 3, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico a Polloni di Fano saranno impegnati per realizzare questo progetto. Avis Fano ha dedicato anche energie economiche, come facciamo, per il logo e verranno quindi premiati i migliori studenti e logicamente un supporto alle scuole. Vogliamo rinnovare a tutti l'invito di partecipare alla prossima assemblea che si terrà sabato 8 maggio, la cooperativa Tre Ponti e ricordatevi che è importante anche votare il nuovo consiglio. Potete venire in sede sabato pomeriggio e domenica mattina per l'assemblea elettiva.